Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive. Avete visto il filmato precedente dell'RCZ dove avevamo iniziato a descrivere i lavori che facevamo? Se vi interessa quello che abbiamo spiegato precedentemente seguitici anche su questo così abbiamo un nuovo upgrade su quello che stiamo facendo. Sigla! Ecco, come premesso rispolveriamo questa Peugeot RCZ col motore THP 200 cavalli che abbiamo già visto alla volta precedente quando avevamo iniziato a fare un determinato tipo di lavori che ci aveva commissionato il cliente. Premettiamo che alcuni lavori li aveva già iniziato il cliente, in particolare questo tipo di lavoro che è stato fatto in maniera non del tutto corretta, basta vedere appunto come si è stato vincolato questa tubazione e soprattutto per quelli che sono un pochino più attenti qua si accorgono che manca il sensore di misurazione della massa d'aria. Senza quel sensore ovviamente si accende la spia. Il cliente ci dice ma come mai la macchina ha la spia motore accesa? Dico per forza, se tu non hai il misuratore della massa d'aria è evidente e palese che la spia motore si accende. Il misuratore della massa d'aria è appunto un elemento fondamentale che dialoga con la centralina e che serve appunto per calcolare la quantità di aria e dare il giusto apporto benzina e la giusta apertura della farfalla, la giusta calibrazione della farfalla. Senza quello ovviamente qualche cosa non c'è. Quindi la prima cosa che abbiamo dovuto fare, che andremo a fare è riprendere un condotto di aspirazione con questo elemento qua che è appunto il supporto dove andrà inserito il sensore di misurazione della massa d'aria. Adesso stiamo valutando e questo è l'altro tubicino che a questo punto andrà a collegarsi in maniera un pochino più precisa. Ecco quindi diciamo che con questo pezzo sarà meno bello di questo in silicone, azzurro, tutto quello che vogliamo, però questo qua è stato progettato in maniera precisa per poter alloggiare questo sensore senza il quale appunto come dicevo vengono fuori dei problemi. L'unica cosa che abbiamo promesso al cliente, possiamo valutare però non gli garantiamo nulla, se è possibile sganciare questo pezzo e inserirlo all'interno di questo tubo facendo un'operazione, un po' di cesello perché l'inserimento di questo tubo artigianale non deve creare nessuna infiltrazione di aria, se no si vanifica la misurazione del sensore massa d'aria, quindi se riusciamo a farlo in maniera molto precisa e assolutamente ermetica ha un senso e possiamo mantenere questo tipo di tubazione, se viceversa non si riesce per una conformazione interna, per qualunque motivo, assolutamente meglio rimettere sul tubo diciamo originale che ci toglie via da qualunque tipo di problemi. Questo per quanto riguarda questo tipo di problematica. L'altra parte che mancava nel video precedente, che abbiamo promesso ed è arrivato, è l'intercooler maggiorato. L'intercooler è uno scambiatore di calore, è questo, bellissimo pezzo dell'AirTec, addirittura con la data di produzione e la firma di chi l'ha prodotto, incredibile! Questo è un intercooler specifico per questa macchina, quindi quello che noi suggeriamo sempre nel momento in cui per qualunque grado di preparazione voi vogliate ritoccare l'intercooler, mi raccomando intercooler specifici per la singola macchina, questo per un discorso molto semplice, uno per un discorso di alloggiamento perché devono andare su in maniera perfetta senza andare a creare ostruzione o dover fare delle staffe o degli aggiustamenti che non sono mai gradevoli, due e soprattutto perché è stato studiato a livello di litraggio nella maniera più tecnicamente più logica per poter avere un beneficio senza avere un decremento dall'altra parte. Qui vengo un attimo a un aspetto tecnico, il discorso dell'intercooler serve appunto per avere più massa di aria fresca che arriva in aspirazione sulla turbina, bisogna stare attenti a non esagerare perché anche con questo che più o meno, questo è un intercooler frontale che andrà a sostituire, qui purtroppo non si vede perché dobbiamo tirare giù il paraurti, andrà a sostituire quello di serie che a calcoli che abbiamo fatto dovrebbe essere un 20% più piccolo rispetto a questo. Nonostante che la differenza percentuale non sia enorme, se noi andiamo a montare questo intercooler con le relative tubazioni in silicone fatto perfetto, si decomprime, si crea una decompressione nel giro del turbo, questa decompressione se noi non andiamo a toccare la mappa, inevitabilmente beneficia il fatto che entra più aria nella turbina, più aria fresca, tutto quello che vogliamo, ma il problema è che decomprimendo il giro del turbo la pressione, cioè la coppia si sposta dal basso verso l'alto, quindi è gioco forza quando uno va a montare un intercooler, scegliere a seconda di quello che uno fa, questo è uno stage 1 allargato, massimo che arriveremo, arriveremo 1 a 6 giù e non andiamo mai come voi sapete oltre questi livelli di preparazione, se noi montassimo l'intercooler senza toccare la parte elettronica, la macchina sotto andrebbe peggio di prima, quindi è inevitabile che a fronte del montaggio di uno scambiatore di calore come questo, inevitabilmente bisogna ritoccare la mappa, è un po' come lo stesso concetto di andare a montare un key di aspirazione diretto non in scatolato come questo o di montare una linea di scarico molto aperta, soprattutto magari mettendoci un catalizzatore 200 celle o magari cominciando a togliere più silenziatori, in questo caso si decomprime il condotto di aspirazione o si decomprime il condotto di scarico, anche in questo caso entro certi limiti si può andare a compensare con la parte elettronica, cosa che dobbiamo per forza fare perché se no chiaramente è una preparazione che crea dei vantaggi ma ne crea altri, la preparazione giusta è quella di montare tutti i componenti meccanici per poi arrivare il bravo preparatore ad affinare tutti questi componenti con una mappa che sia ad hoc, noi come al solito cerchiamo di affinare tutti i componenti senza andare a esagerare, senza avere un incremento di coppia potenza esagerato perché come abbiamo spesso specificato su questo genere di problemi più sul THP il 156 cavalli che non il 200 però sono comunque motori delicati e quello che consigliamo ai clienti è di farci fare delle modifiche, delle preparazioni entro determinati sogli, entro determinati limiti, più che altro per questione del cliente perché noi diciamo chiaramente come sono le cose, se il motore poi si rompe perché è una problematica sua non possiamo essere responsabili, quindi diamo dei suggerimenti, solitamente i clienti ci ascoltano, questa è una delle macchine tra le poche che abbiamo visto che è stata curata in maniera perfetta, non ha problematiche, cerchiamo di non andare a svegliare che anche dorme, quindi facciamo un incremento con logica senza esagerare per avere più soddisfazione, più coppia e più potenza senza avere il patema d'animo che prima o poi qualche cosa si rompa. Io direi che anche per questo upgrade, poi una volta che finiremo il tutto magari faremo una terza puntata, quando ci sono delle macchine che stanno qua da noi per un po' di tempo è anche piacevole fare degli aggiornamenti, magari a macchina finita potremmo anche pensare di fare una prova dinamica su strada. Quindi io direi che anche per questa RCZ è tutto, come al solito mi invitiamo a mettere un bel like, cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale che per noi è molto molto importante e soprattutto per voi per rimanere sempre aggiornati su quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima! Grazie mille!